Taglio del nastro questo pomeriggio per il Covid Hospital di Pescara, 181 posti all'interno del complesso ospedaliero del Santo Spirito. Una giornata importante per la sanità abruzzese, come ha anche spiegato nell'intervista il presidente della regione, Marco Marsilio. Presidente, ha detto nel discorso di qualche minuto fa, consegniamo questo ospedale 15 giorni prima e con un risparmio di 2 milioni e mezzo di euro. Che è il ribasso d'asta che si è maturato grazie alla nostra scelta di non procedere ad un affidamento diretto ma di fare, seppur in tempi strettissimi, una gara tra 11 imprese, ne bastavano solo 5, quindi abbiamo garantito trasparenza, concorrenza e velocità nell'esecuzione. Tanto potenzierà un reparto di malattie infettive che esisteva ma che non aveva gli spazi sufficienti e quindi rientra nella logica che in tutta Italia sta imponendo il decreto rilancio nel quale è previsto di raddoppiare gli spazi di terapia intensiva e gli spazi di subintensiva e quindi noi ci stiamo allineando, anzi portando avanti in anticipo rispetto a questa richiesta, a questo obbligo che oggi ci viene dato di rete sanitaria. Un ospedale più efficiente, più potente nella risposta sanitaria, più dotato di spazi moderni che eviteranno magari all'ospedale di Pescara di vedere scene come i lettini in corsia quando gli spazi non ci sono. In precedenza, sempre nel pomeriggio presso la sala Corradino d'Ascanio della giunta regionale di Pescara, c'era stata la presentazione da parte della giunta dei due neodirettori generali delle ASL di Pescara e Teramo, Vincenzo Ciamponi e Maurizio Di Giosia, che da 30 anni lavora nella ASL, Teramana arriva al vertice proprio della ASL di Teramo per Ciamponi e un ritorno in Abruzzo dopo l'esperienza fuori della nostra regione. Andiamo ad ascoltare proprio le parole dei due neodirettori generali. Direttore, da oggi al vertice dell'ASL di Teramo, prima in conferenza stampa, ha detto tra gli obiettivi da raggiungere c'è quello del nuovo ospedale di Teramo. E certamente, ne abbiamo tanti perché nel momento in cui abbiamo firmato il contratto l'assessore, la giunta, ci ha delegati a svolgere, a realizzare degli obiettivi importanti per la sanità regionale abruzzese. Dopo noi, è ovvio che ogni ASL deve pensare anche ai propri obiettivi, quindi per noi come ASL di Teramo è, come dicevo prima, la realizzazione di un nuovo ospedale. Un ospedale ad alta tecnologia, un ospedale per acuti, che vada a sostituire l'ospedale di Teramo. Ormai, lo abbiamo visto anche con la nuova emergenza Covid, non più consono ai tempi, un ospedale realizzato 50 anni fa, che ha problemi di sismicità, che ha problemi di antingendio. L'anno scorso abbiamo speso 11 milioni di euro per fare un po' di attività antingendio, quindi dimostra che l'assorbimento delle risorse è notevole. Oramai, 82 milioni di euro già sono stati concessi dal Ministero per realizzazione di questo ospedale. Con qualche altre somme riusciremo a realizzare un grosso ospedale di circa 500 posti letto a Teramo. Adesso dobbiamo vedere le modalità per come realizzarlo. Per proseguire anche il lavoro del compianto dottor Fagnano, questo è anche un altro dei suoi obiettivi? Certamente, noi con Fagnano, io l'ho affiancato per sei anni, quindi ci eravamo già determinati obiettivi. Tanti li abbiamo già conseguiti, mettendo a punto tutto l'assetto amministrativo, l'assetto dipartimentale, l'approvazione dell'atto aziendale. Adesso bisogna lavorare per completare l'opera e far sì che, come dicevo prima, la sanità terramanea torni al centro della sanità regionale e anche nazionale. Dobbiamo riconquistare quell'attrattività che abbiamo avuto nel passato. Oggi di fatto sono ancora in organico alla SST Bergamo Ovest, oggi sono qui come ospite, quindi ringrazio tutti per questa ospitalità. Il giorno 20 arriverò qui, vorrei essere operativo sin da subito, conoscere l'azienda, le problematiche, le soluzioni, condividere con il Presidente e con l'assessore. Direttore, tra gli obiettivi c'è anche quello, immagino, del rilancio di due strutture ospedaliere come quelle di Penne e Popoli. Assolutamente sì, però come ho detto prima, ad oggi ho letto soltanto sulla carta che bisogna fare anche questo. Vorrei arrivare il giorno 20, ci rivediamo dopo qualche giorno, datemi tempo, tempo tecnico, per capire che cosa si deve fare e che cosa si può fare. Ho bisogno di tempo. Vorrei evitare di fare gli errori che forse ho fatto in quella terra. Ecco, questo voglio non farlo. Per chiudere per lei comunque un ritorno al passato, un ritorno nella sua terra, questo cosa significa? È un arrivo a Pescara. Ho fatto 20 anni di esperienze nelle aziende private e pubbliche. Vorrei mettere a disposizione di questa terra che mi ha visto nascere tutti i lavori che ho fatto in questi anni. Ma resta alta la guardia anche per quanto concerne il controllo del Covid-19, il contrasto al coronavirus. Come ha spiegato ai nostri microfoni il professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa del reparto di malattie infettive dell'ospedale civile di Pescara. In questo momento siamo in una situazione di sicura acquiescenza. Abbiamo una serie di portatori sani sicuramente ancora presenti nel nostro territorio, ma il tempo che passa gioca a nostro favore. Il vero problema è il ripopolamento dei portatori con l'apertura delle frontiere regionali e nazionali. Quindi rispetto a questa evenienza dobbiamo assolutamente mantenere tutte le cautele per evitare che possa esserci una risemina del virus attraverso coloro che poi tra qualche settimana potrebbero nuovamente manifestare malattia. Ma io ho molta fiducia perché la nostra attuale strutturazione ci permette di intercettare precocemente questi fenomeni e perché la popolazione ci sta seguendo con l'intelligenza che connota il popolo italiano.